Buongiorno e ben ritrovati ad Occhio ai Giornali. L'edizione di questo mercoledì 30 ottobre è da consuetudine. L'apriamo occupandoci del Santo del Giorno. Si celebra oggi San Germano di Capua, vescovo vissuto nel VI secolo. Il sole è sorto alle 6.39, tramonto fissato per le 17.02. Lo sguardo al meteo. Continuità nelle condizioni meteorologiche, con prevalenza per oggi di sole rispetto a qualche nuvola. Anche sul fronte delle temperature, situazione pressoché immutata, valori del tutto simili a quelli già registrati nella giornata di ieri. E adesso le notizie che trovano più ampio spazio questa mattina sui quotidiani. A cominciare dalla scossa di terremoto che è stata avvertita da più di qualcuno distintamente nel pomeriggio di ieri. Si titola il Corriere Adriatico, scossa di magnitudo 3.7. Un rombo di tuono e tremava tutto il virgolettato che riproduce una testimonianza delle tante che sono apparse ieri sui social. L'epicentro in mare a largo di Marotta, così ancora il Corriere Adriatico, scossa di magnitudo 3.7. Si legge anche all'interno dell'articolo, erano le 17.48 di ieri quando appunto il fenomeno è stato avvertito. L'epicentro è stato individuato a 25 chilometri di profondità in mare a largo di Marotta. Le testimonianze sui social appunto improntate a quello che è sembrato un tuono ed è stato poi ricollegato appunto alla scossa sismica. Passiamo ad altri temi, in particolare ad uno particolarmente sentito in questo periodo dell'anno, quello della situazione in cui versano i cimiteri cittadini. Situazione di grande difficoltà, come è stato riconosciuto recentemente in Consiglio Comunale, anche dalla nuova amministrazione comunale. Occorrono interventi e anche urgenti, in particolare il Corriere Adriatico si concentra sulla situazione del cimitero centrale, quello di Via della Giustizia, degrado, gli anziani rischiano di cadere. Camminamenti sconnessi in superficie, sotterranei scivolosi per le infiltrazioni di pioggia. Un quadro decisamente precario, quello che si presta ai numerosi visitatori che stanno follando i cimiteri, già in queste giornate lo faranno ancora di più nella giornata di venerdì. Ogni santi è in quella dedicata alla commemorazione dei defunti di sabato. Lavori di restauro e manutenzione sempre rinviati. C'è anche il problema delle barriere architettoniche. Corriere Adriatico che fotografa alcune situazioni in particolare. C'è un settore del portico che delimita il cimitero, nel lato che confina con il grande parcheggio di Via della Giustizia in cui appunto si notano infiltrazioni evidenti e si sono verificati anche dei cedimenti. L'unico rimedio in particolare che è stato apportato di recente è stato quello di stendere un nastro rosso con due paletti per avvertire i pedoni del pericolo, lì dove la situazione era di più difficile gestione. Cimiteri che sono però anche interessati da un'operazione di digitalizzazione che viene condotta in queste settimane. I cimiteri centrali diventano digitali. Così sarà più facile gestirli. A dirlo l'assessore ai servizi cimiteriali Talamelli che parla di un'operazione che arriverà a conclusione entro la fine dell'anno finanziata con 30 mila euro. Tanto costa l'incarico che è stato affidato da una ditta specializzata, la Gem Lab. Creeremo coppie interattive per governare sepolture e concessioni. Fa presente ancora lo stesso Talamelli nell'evidenziare anche i provvedimenti che sono stati adottati per rendere ancora più accessibili e fruibili cimiteri in questi giorni. Al cimitero dell'Ulivio in particolare ha ampliato il servizio navetta fino a domenica. Il mezzo sarà disponibile tutti i giorni, mattina e pomeriggio. E a proposito di operazioni che vengono condotte la nuova amministrazione comunale, nei giorni scorsi formalizzato l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano urbano del traffico. Ieri primo sopralluogo congiunto condotto in bicicletta dal sindaco Serfilippi, dall'assessore alla viabilità Curzi e dai tecnici dell'impresa specializzata di Padova che dovranno appunto redigere il piano, la Net Engineering, nuovo piano del traffico. Sopralluogo dei tecnici, informa la Corriere Adriatico. Più parcheggi e ciclabili protette, sono due delle linee guida del piano, secondo quanto indicato dall'amministrazione comunale. Ieri si è fatto un primo punto della situazione con un giro che ha toccato in particolare il centro storico e il lungomare di Lido e Sassonia, ma ci sono state incursioni anche a Centinarola, in via del fiume, in zone particolarmente delicate. Tornando al resto del Carlino, e a proposito di percorsi ciclabili, la nuova protesta di Lupus in fabula per un albero abbattuto, in questo caso si tratta di un prugnolo, per fare la pista ciclabile. Abbattono alberi sanissimi, denuncia ancora una volta l'Associazione Ambientalista, che ricorrentemente prende posizione contro l'eliminazione di alberi in nome di progetti, che sempre secondo la stessa associazione dovrebbero mostrare maggiore rispetto verso le piante. La denuncia della Lupus in fabula relativa ai lavori in corso al campo d'aviazione, stavolta è toccato ad un albero di 5 metri. Quanti ancora ci si chiede? Sarebbe stato facile individuare un tracciato che evitasse di buttare giù le piante non si è fatto. Lamenta ancora Lupus in fabula, che rileva come l'ultimo albero. Si è stato abbattuto per fare posto alla megapista ciclabile del campo d'aviazione, stralcio della ciclovia turistica del Metauro, promossa dalla regione. L'intervento ha provocato sdegno tra coloro che frequentano l'area. Lamenta ancora Lupus in fabula. Altro tema trattato dall'arresto del Carlino questa mattina sulla scorta di una interrogazione formulata dal consigliere comunale di 5 Stelle, Panaroni, quello del destino della piscina di Nisalvarai all'interno del complesso, che include anche una palestra dopo l'apertura del centro natatorio Nuotiamo realizzato dalla Fondazione Carifano. La piscina è stata chiusa e appunto Panaroni intende chiedere chiarimenti all'amministrazione comunale sulle intenzioni a seguito anche della disponibilità della provincia a cedere la piscina per una cifra simbolica. Si parla di 19.000 euro. Dimmi, Salvalai, che futuro, questo è il titolo, la compriamo noi. Il virgolettato riporta l'intenzione del sindaco Serfilippi e dell'assessore allo sport Santorelli. Già comunicata la nostra disponibilità alla provincia viene chiarito, senza attendere i tempi del Consiglio Comunale per la risposta, l'ipotesi di trasformare la piscina in un impianto sportivo a servizio di Sant'Orso. Quali saranno le modalità di riconversione della piscina? Questo andrà chiarito nei prossimi mesi. Un impianto comunque vecchio, a più di mezzo secolo e sul quale insiste anche il problema della presenza di amianto, che lo stesso Panaroni sottolinea all'interno del documento. Venendo ad altro argomento, il resto della Carlino sottolinea anche il contributo di Andrea Giomaro, lo specialista degli effetti speciali fanesi, all'ultima pellicola di Paolo Sorrentino Partenope. Giomaro mette un po' di fano nell'ultima pellicola di Sorrentino, l'esperto di effetti speciali nel team di creativi assoldati dalla produzione e per Halloween in Transilvania proietteranno il mio nosferato nel castello di Dracula, fa notare lo stesso Giomaro. Per quel che riguarda invece l'agricoltura, sempre sul resto del Carlino, il punto sulla raccolta del grano è più in generale un quadro della situazione. Si parla di battaglia del grano a questo riguardo e gli agricoltori lamentano, non si rientra nei costi. La fotografia delle associazioni di settore tra danni del maltempo e prezzi di mercato troppo bassi che impedirebbero di rientrare delle spese. La raccolta comunque è andata bene, affermano ancora i rappresentanti delle associazioni di categoria. Dopo il calo registrato nel 2023, si è tornato sui livelli standard, si legge ancora dall'arresto del Carlino. Mentre il Corriere Adriatico, tornando alla cronaca, si occupa dello stato di salute di un sedicenne fanese affetto da crisi epilettiche che non stanno rispondendo ai farmaci, affetto da crisi epilettiche. Sedicenne trasferito al Bambin Gesù, trasferimento avvenuto ieri in elieambulanza dall'ospedale di Salesi di Ancona, dove il giovane era in cura, appassionato di calcio, ha dovuto rinunciare purtroppo a questa sua passione per la malattia che lo ha colpito. Venendo invece ai temi trattati all'interno delle pagine pesaresi dal resto del Carlino, ancora una volta focus sulla inchiesta cosiddetta Affidi Facili, si registra per la prima volta una presa di posizione del sindaco Ricci che esce dal silenzio, questo è il titolo, se in questa vicenda qualcuno ha sbagliato, risponderà di persona così l'attuale euro parlamentare che non può fare a meno di intervenire dopo l'avviso al suo ex braccio destro Arceci, ci siamo sempre fidati dei collaboratori, afferma ancora lo stesso Ricci, ma il resto del Carlino ricorda come di Massimiliano Santini, lo stesso Ricci all'epoca in cui lo volle al suo fianco, disse ho bisogno di uno dinamico come lui a tempo pieno. La giunta comunale uscente, questo è un altro passo delle dichiarazioni rese da Ricci, non si è mai occupata di affidamenti e appalti, ci siamo sempre fidati dei collaboratori, dei dirigenti che fino a prova contraria hanno sempre fatto un ottimo lavoro. Quanto agli indagati, lo stesso Ricci dice sono ottimi funzionari, seri e onesti che sono sicurissimo, dimostreranno la correttezza dei loro atti. Nel frattempo, Franco Arceci, raggiunto appunto da un avviso di garanzia, non molla il suo ruolo di presidente del Consorzio Pesaro Basket, resto presidente, abbiamo ancora 31 partite, così lo stesso Arceci, avevo dato la mia disponibilità di mettermi, ma con Valli abbiamo deciso di proseguire con questo assetto societario, Valli presidente della VL. Pare che comunque la decisione sia stata concertata, rileva ancora il resto del Carlino con l'attuale sindaco di Pesaro, Biancani, il centrodestra, mette ancora una volta il dito sulla ferita, centrodestra all'attacco, Biancani, allontani, Arceci, questa è l'indicazione che arriva dall'opposizione che ha di che ridire anche sull'euro parlamentare Ricci, invitandolo a parlare più nel dettaglio dei suoi uomini fidati e in particolare si immagina allo stesso Santini. Dal resto del Carlino ha anche un giro d'orizzonte sui lavori pubblici, in particolare sul San Domenico, si muove il San Domenico entro la fine del 2025, il nuovo mercato delle erbe. Il punto sullo stato dei lavori assieme all'assessore Puzzi per l'ex convento che diventerà uno dei maggiori punti di incontro e di commercio del centro storico. I locali per gli universitari, poi un ristorante, il chiostro per i prodotti tipici locali all'interno del complesso interessato da un cantiere. Si legge nell'articolo da 8,4 milioni di euro di cui 7 milioni e 700 mila euro di matrice PNRR. Sempre in tema di lavori pubblici, i ritardi per la costruzione del ponte ciclopedonale sul Foglia, ritardi netti secondo il resto del Carlino. Si lavora nella fase attuale sui due raccordi della pista ciclabile, mentre per quello che riguarda i ritardi, sempre l'assessore Puzzi, li attribuisce al maltempo. Ancora sul fronte dei lavori pubblici e passando al Corriere Adriatico, spazio in particolare allo spazio museale che si intende ricavare all'interno del vecchio tribunale di via San Francesco per fondazione Pescheria che deve in qualche modo elaborare il progetto. 20 mila euro di finanziamento il cantiere fermo dal 2019, il centro arti visive farà ripartire il progetto dopo la richiesta di revisione. quanto al contenuto del progetto si legge all'interno dell'articolo all'interno del complesso troverà spazio in particolare il museo delle moto storiche ma verrà ricavato anche uno spazio dinamico destinato ad ospitare particolari eventi sempre all'interno dell'ex tribunale anche un'area dedicata all'attività ludica con simulazioni di guida. Ancora lavori pubblici sempre dal Corriere Adriatico per la denuncia del sindaco Biancani sullo stato in cui versa il San Benedetto regione immobile sul San Benedetto rischiamo di perdere 15 milioni di euro da parte sua e la direttore dell'azienda sanitaria Carelli con proprietari annuncia verifiche dopo i crolli la consigliera regionale del PD Vitri però rincara per il San Benedetto non c'è un solo euro all'interno del piano delle opere pubbliche e poi i distingue le perplessità riguardo all'utilizzo dell'area adiacente all'auditorium Scavolini appena ristrutturato in particolare il gruppo Pesaro 30 non condivide le scelte dell'assessore Pozzi Pozzi aveva promesso una piazza invece ci passeranno moto e auto e il gruppo Pesaro 30 interviene sulla pedonalizzazione dell'area che confina con l'auditorium Scavolini quel tratto di via Marconi sarebbe un punto di connessione fra il lungomare e il centro rileva ancora il gruppo Pesaro 30 riguardo alla destinazione di quell'area Corriere Adriatico che dedica il suo focus principale ai danni provocati dal maltempo a Pesaro se ne è occupato il consiglio comunale danni per il maltempo priorità e ripristino di smontamenti e frane è quanto emerso in sede di dibattito interventi concentrati in particolare sull'Ardizio sulla strada dell'Angelo Custode e sul centro direzionale Benelli dal fondo di riserva 230 mila euro che come si apprende dall'articolo saranno suddivisi in 130 mila euro da destinare al ripristino del centro direzionale Benelli altri 100 mila euro alla messa in sicurezza della frana del Monte Ardizio che ha penalizzato il transito sul cavalca ferrovia di altra matrice 20 mila euro per il ripristino della strada dell'Angelo Custode in sede di consiglio comunale si è parlato anche degli interventi da dedicare alle politiche sociali promessa grande attenzione da parte dell'amministrazione comunale mentre ammonta 170 mila euro il finanziamento per gli eventi di Natale di cui si occupa più nel dettaglio il resto del Carlino che appunto entra a sua volta nel merito del programma come ha fatto il Corriere Aviatico in questi giorni sarà un Natale diffuso in centro le casette sparse per le vie l'albero acceso il 30 novembre questo è il titolo diversi cambiamenti rispetto all'anno scorso come già annunciato pista di patinaggio sintetica e non di ghiaccio palco intorno alla biosfera invece che davanti al comune previsto anche il teatro in piazza sul resto del Carlino e siamo al tema dei servizi scolastici riaffermata in consiglio comunale l'intenzione dell'amministrazione comunale pesarese di statalizzare la scuola la giostra così la fascia 0-3 anni avrà più posti ha ribadito il concetto l'assessora Murgia che aveva annunciato nei giorni scorsi questa operazione dalle pagine regionali del Corriere Adriatico invece spazio al tema del trasporto ferroviario e in particolare al progetto dell'alta velocità alta velocità sì ma fra vent'anni comunque meglio dei bypass torna ad affermarlo l'assessore regionale alle infrastrutture Baldelli che non ha dubbi i sindaci sono con noi ma l'europarlamentare Ricci già sindaco di Pesero già nei giorni scorsi aveva parlato di un furto ai danni della regione Marche in particolare della città di Pesero concetto ora ribadito Pesero derubata Ricci che si appresta a formulare un'interrogazione all'europarlamento la regione però va avanti con il progetto di una nuova linea parallela all'Adriatica si procederà per stralci il costo oscilla fra i 60 e gli 85 miliardi di euro tornando ai temi più prettamente pesaresi dal resto del Carlino all'allarme per la caduta di pezzi dal cornicione delle zoccolette transennati 40 metri per evitare rischi il sindaco Biancani speriamo che inizi presto i lavori e tra i lavori che verranno effettuati di qui a breve anche l'abbattimento del pino che si era piegato un abbattimento che le associazioni ambientaliste hanno cercato di scongiurare ma che Aspes eseguirà nelle prossime ore il grande pino sarà abbattuto questo è il titolo per il presidente di Aspes Pieri non è stato possibile salvarlo il taglio annunciato già per questa mattina non ci saranno intralci alla viabilità ma c'è chi torna a contestare il provvedimento è Roberto Malini dell'associazione Everyone per conservarlo bastavano 300 euro questo è il costo di una forcella che avrebbe consentito al pino di reggersi veniamo adesso ai temi trattati nelle pagine che i due quotidiani dedicano questa mattina al territorio e in particolare il nuovo appello lanciato dalla famiglia di Riccardo il giovane di Acqualagna di cui non si hanno notizie da più di due settimane Riccardo la famiglia non molla esplorate le aree più inaccessibili torna a rivendicare la famiglia illegale che ne tutela gli interessi si è inviato in questo senso un'istanza prefettura procura della repubblica e sindaci di Acqualagna e Fermignano in particolare la famiglia richiede che siano ispezionate grotte al momento inaccessibili per l'eccessivo risucchio dell'acqua bisognerebbe appunto svuotare la diga intanto si susseguono le chiamate moleste alla stessa famiglia arrivano anche nel cuore della notte generando soltanto confusione una delle ultime segnalazioni circa i presunti avvistamenti dello stesso Riccardo è arrivata dalla stazione ferroviaria di Pesaro ma anche in questo caso non c'è stato riscontro venendo invece a Durbino sull'arresto del Carlino in evidenza i problemi che vengono creati anche il pericolo dai troppi muschiai nei vicoli c'è il rischio scivoloni così li eliminiamo annuncia il sindaco Gambini che preannuncia appunto l'intervento da parte di Marche Multiservizi che è il compito di rimuovere quei muschi in maniera sistematica abbiamo già sollecitato l'intervento quanto invece alla situazione a Palazzo Ducale si parla dei lavori che comporteranno la chiusura dello studiolo dal 4 novembre interessate interessati gli impianti da un intervento di rifunzionalizzazione verrà smontato pannello per pannello e sottoposta ad accurati interventi di manutenzione e poi rimontato delicatamente così il direttore Gallo alla vigilia della riapertura delle 5 sale riallestite all'interno della Galleria Nazionale delle Marche il Corriere Adriatico nella sua pagina invece dedicata ad Urbino da voce alla protesta del Verde Carrabs centro storico lasciato nell'incuria Gambini sindaco di Urbino non tutela la città Unesco segnalati catrame sui sanpietrini deposito di materiali edili e mura spaccate sempre dalla Corriere Adriatico la notizia che ad Urbino è stato piantato un leccio per la salute dell'ecosistema un intervento simbolico che è stato attuato su iniziativa di carabinieri e medici internisti davanti all'ospedale sempre dalle pagine dedicate all'entroterra le parole del sindaco di Fossombrone Berloni recentemente investito della carica di presidente del lato e la prima iniziativa che intende adottare quella di nominare un gruppo di lavoro che includa un numero di sindaci ristretto l'attuale platea all'interno dell'assemblea è per Berloni troppo numerosa per consentire una gestione snella dei lavori e ormai alla vigilia di Halloween spazio questa mattina sui quotidiani anche alle iniziative che sono in programma per la giornata di domani se ne occupa ampiamente per quel che riguarda Fano il Corriere Adriatico Halloween nel segno dell'inclusione la festa da Sant'Orso arriva in centro come è noto la novità di quest'anno riguarda i due siti che sono stati individuati per le diverse iniziative Sant'Orso dove viene declinata ancora una volta la bella storia ad anni di distanza dai fatti che caratterizzarono in negativo l'Halloween appunto del 2019 sì a quartiera Halloween però anche in centro storico dove verrà sviluppato un calendario altrettanto fitto coinvolte 18 associazioni nell'animazione nata appunto dai disordini di 4 anni fa diverse le novità in piazza 20 settembre un pomeriggio di paura con spettacolo di clowneria e musica oltre a tanto altro sempre per quello che riguarda Halloween il resto del Carlino fa il punto su quelle che sono le iniziative che si articolano sull'intero territorio possiamo leggere dal titolo Halloween per tutti dagli zombie di Gradara la disco di Gabice nella cittadina della Rocca gli spiritelli vagheranno per le vie del Borgo a Vallefoglia il villaggio delle zucche per le famiglie a Canavaccio sarà invece cena e festa in maschera organizzata nel tendone con tanto di dj e siamo così al termine di questo appuntamento con occhio ai giornali ricordiamo gli appuntamenti della serata all'evento il teleracconto che ospiterà l'assessore ai grandi eventi del comune di Fano Alberto Santorelli dopo il tg invece lo speciale dedicato a Santipolito e alla sua settimana da capitale della cultura grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie a tutti